La sicurezza è fatta di tanti tasselli, di tanti elementi e la parte dei cittadini ha un ruolo importante. Ricordiamo quando nasce e perché questa associazione con Romeo Renis? L'associazione in pratica nasce il 12 febbraio del 2016, quindi circa un anno fa. Nasce con la consapevolezza che il problema sicurezza è un problema delicato, insieme a quello della sanità, della scuola, consapevoli che il problema non è solo un problema di polizia, ma è un problema di tutta la società. Quindi chiamarsi fuori da questo segmento non è assolutamente più il caso, ci siamo voluti mettere a disposizione, siamo consapevoli che sul versante della prevenzione, della legalità possiamo svolgere un ruolo importante e quindi siamo nati con la consapevolezza di essere al servizio dei cittadini nel rispetto assoluto delle istituzioni e di chi si occupa principalmente di questo argomento e quindi delle istituzioni e delle forze di polizia. Nei 40 anni di polizia ho l'idea che proprio per la sicurezza è l'opinione pubblica che ha un ruolo molto molto importante, un ruolo superiore a qualsiasi possibilità che uno pensi, anche se questo ruolo che ha il cittadino deve essere sempre con un rifornimento alle forze dell'ordine. E questa è perciò la nostra associazione, la nostra associazione che vuole creare sicurezza, vuole essere partecipe con i cittadini a costruire la sicurezza, avendo pur sempre come riferimento le forze dell'ordine. Quindi gli obiettivi sono molteplici, quando parliamo di sicurezza parliamo non soltanto di sicurezza per paura amare di furti, ma di legalità, di quali altri finalità, obiettivi dell'associazione? Ma intanto il percorso è la promozione della legalità, con un occhio alle fragilità sociali più importanti in questo momento, pensiamo al ruolo degli adolescenti, pensiamo al problema della ludopatia, al problema del cyberbullismo, pensiamo all'uso di sostanze stupefacenti nei ragazzi adolescenti. Partiamo dalla mutualità di vicinato. La mutualità di vicinato, siamo partiti appunto, come dicevo prima, da uno studio fatto di un'antropologa americana, la Jacobs, che ha dimostrato che in realtà, seppur fondamentali il ruolo delle forze di polizia, non sono assolutamente sufficienti in un contesto sociale, in una città. Quindi ha dimostrato che il ruolo della società civile è fondamentale. Quindi la mutualità di vicinato, come progetto, come idea, nasce per la prima volta nella città di Osimo, viene portata avanti da noi e proposta la città di Macerata, proprio perché se si ritorna alle vecchie abitudini di parlarsi, di essere più vicini, di essere solidali, io sono convinto che faremo dei passi avanti, faremo dei passi avanti e ci sentiremo meno soli. E sentendoci meno soli ci sentiremo automaticamente più sicuri. Se noi ci facciamo prendere dalla paura e ci rintaniamo nelle nostre abitazioni e mettiamo tantissime barriere e andiamo a chiedere sempre più forze dell'ordine, questa paura aumenterà sempre di più. Anche la paura del diverso, la società è cambiata logicamente, quindi Macerata è una città multietnica e anche questo non conoscere l'altro può comportare una preoccupazione, una paura. Abbiamo fatto un convegno con musulmani e un professore universitario di sociologia proprio per fare in modo che conoscendosi questa paura possa essere superata. E quindi che terreno avete trovato tra i cittadini di maggiore apertura o quali difficoltà anche in questa costruzione della cultura della sicurezza insieme? Abbiamo trovato un tentativo di aver paura, quindi di questa paura che comporta un rintanarsi, un individualismo che noi stiamo tendando con i convegni, con l'apertura della nostra associazione, di superare, perché non saranno certo i muri, non sarà certo il rintanarsi in casa, non sarà certo la militarizzazione della città che può portare più sicurezza o quantomeno più percezione di sicurezza. Abbiamo cercato di elencare dei piccoli consigli che ai cittadini ci siamo permessi di dare. Rafforziamo i legami di vicinato, non restiamo convinti di essere sempre autosufficienti. Questo è legato a ragioni. Impariamo a vivere di più il nostro quartiere, non rimaniamo nella convinzione che il nostro ruolo finisce come usciamo da casa. Quando ci assentiamo da casa, impariamo a rendere partecipe un vicino di casa, una persona amica, una persona con cui abbiamo confidenza. Se vediamo una macchina con qualche soggetto nella nostra zona, telefoniamo tranquillamente alle forze di polizia, coinvolgiamoli perché saranno contenti e sicuramente partecipiamo ad un servizio importante. Un attimo, una breve aggiunta. Quando ci assentiamo, un altro consiglio che spesso anche voi stessi avete dato è di anche sui social, su Facebook, non mettere, sarò in vacanza per me, pubblicare situazioni che possono creare… Magari le pubblichiamo dopo, quando siamo tornati. Poi se ci sono persone anziane nel nostro condominio, ogni tanto andiamoli a trovare. Non è possibile scoprire come è successo a Fano circa un anno e mezzo fa che magari due coniugi sono deceduti e il condominio se ne ha accorto quando ha incominciato a sentire il cattivo odore. Ecco, questa è una buona pratica di vicinato che secondo il mio punto di vista è fondamentale. E vediamo di attaccare nel portachiavi nome e cognome e la via dove abitiamo. Teniamo sempre a portata di mano i numeri utili che noi in qualche modo abbiamo anche dato qui all'ultima pagina, 113, 112, 118. Penso che sono piccoli consigli, alcuni dei tanti che si possono dare, ma piccole cose che possono sicuramente aiutare. Cos'altro aggiungere a questi consigli, Jacopone? Dunque, le telecamere sono un fatto molto importante, ma io insisto sempre sulla mutualità di vicinato. La politica deve, con un occhio sicuramente alle scelte più importanti che riguardano l'aspetto repressivo e l'aspetto preventivo dell'organizzazione dello Stato, ma una parte, come diceva il dottor Jacopone, puntare al controllo sociale informale, puntare e investire sul ruolo della società attraverso l'associazionismo, attraverso il coinvolgimento. Dobbiamo tutti essere convinti che da soli non ce la fa nessuno, che possiamo superare questo argomento solo se tutti insieme possiamo lavorare. Quindi, da una parte il controllo sociale formale, cioè l'impegno dello Stato, l'organizzazione delle forze di polizia, questo è un argomento che già di per sé non abbiamo ruolo per approfondire un argomento di cui non ne siamo padroni, ma ne siamo fortemente convinti che l'altra parte del segmento, cioè il controllo sociale informale, è un segmento fondamentale. Quindi la politica deve finalmente affrontare il problema della sicurezza urbana come un impegno, come un necessario investimento e non come una spesa. La giustizia fai da te è un pericolo attuale, è un rischio fortissimo che noi non possiamo correre e quindi dobbiamo stare molto attenti a questo fatto del promuovere delle azioni che significano giustizia fai da te. Nel vostro statuto mi sembra di aver letto che è di scongiurare la giustizia fai da te. Favorire la promozione della legalità per consolidare nei cittadini il rispetto delle regole della toleranza, dell'integrazione, della non violenza e del rifiuto della giustizia fai da te.